Nella puntata di oggi Renzo si incammina nella Bergamasca verso il paese di Bortolo. Tanti sono i pensieri che animano la sua mente di fronte agli spettacoli miserabili di carestia e di povertà e il giovane si chiede se potrà mai trovare un lavoro lì nella Bergamasca. Intanto lungo la strada cresce in lui la fame e Renzo decide di entrare in un'osteria per rifocillarsi e per samarsi in modo da non giungere a casa del cugino e chiedere come prima cosa un piatto da mangiare. L'osteria come abbiamo visto popola tutto il romanzo soprattutto questa parte centrale in cui le vicende di Renzo sono più complicate. L'osteria è proprio metafora del mondo ed è metafora delle vicissitudini e dei pericoli. All'uscita dall'osteria Renzo vede uno spettacolo che suscita in lui la commozione. Due donne sono straiate per strada, una più giovane e l'altra più anziana. Quella più giovane sta allattando un bambino che continua a piangere. Vicino alle due donne c'è un uomo che in altre età doveva essere il più robusto ma ora risulta più emaciato a causa della carestia. Renzo allora prende dalla tasca dei soldi e li mette nella mano che trova più vicina e dice la c'è la providenza. Vuole così Renzo mostrare come Dio è vicino agli uomini. Lui ha sentito Dio vicino in tutte quelle difficoltà quando si trovava a Milano, quando ha rischiato di essere condannato a morte, quando ha superato l'Adda, ora che è arrivato nella Bergamasca, Renzo percepisce che c'è una presenza buona. La presenza buona del Signore e anche la presenza buona di tutti quei volti che gli vogliono bene, Lucia fra Cristoforo e Agnese. E allora Renzo vuole mostrare la sua gratitudine donando quei pochi soldi che gli sono rimasti. E ora che Renzo si è rifocillato nel corpo e ha compiuto un gesto di carità, Renzo è più lieto. Questo ci mostra proprio come la carità renda lieti perché l'animo umano è fatto per amare. Renzo si avvicina alla casa del cugino e in lui cresce anche la speranza. La speranza di poter finalmente ricominciare una nuova vita. Lui potrà trovare una casa, trovare un lavoro e troverà pure un sacerdote che voglia sposare lui e Lucia Mondella. Finalmente Renzo arriva a casa del cugino e i due si abbracciano e il cugino mostra tutto il suo affetto e rimprovera Renzo di non essersi recato a casa sua prima. Ma Renzo subito sottolinea che se si trova lì non è per sua spontanea volontà ma perché è stato costretto dalle circostanze e così Renzo racconta tutta la sua storia e racconta i casi che sono capitati a lui e a Lucia e la presenza di Don Rodrigo che ha impedito il loro matrimonio. E allora ecco che Bortolo esclama, oh povero Renzo, oh povera Lucia, Lucia Mondella, me ne ricordo come se fosse ieri, una buona ragazza, sempre la più composta in chiesa e quando si passava da quella sua casuccia, mi par di vederla, quella casuccia appena fuori del paese con un bel fico che passava al muro. Ma Renzo non vuole ricordare, non vuole sentir parlare di quella casa, non vuole rammemorare quei giorni che hanno preceduto il mancato matrimonio. E allora ecco che Bortolo chiede a Renzo se abbia fame e poi gli chiede se abbia dei soldi. Ma Renzo deve rispondere di no, che ha ormai consumato tutti i denari. E allora Bortolo gli consegna dei soldi, promette di dargli tutto quello che gli occorrà, perché Bortolo si è sentito beneficato da Dio. Bortolo è grato per tutto il bene che ha ricevuto e ora la gratitudine si vuole tradurre in un gesto di carità. Bellissima è l'azione di Bortolo, bellissima è la gratitudine che lui prova. La gratitudine non è tipicamente umana. L'uomo più facilmente mostra ingratitudine, come dice Guicciardini nei ricordi. Guicciardini dice che più tengono a memoria gli uomini le ingiurie che i benefici. Anzi, quando pure si ricordano del beneficio, lo reputano minore che infatti non fu. Quindi se io ricevo un'azione buona, ecco che la considero minore di quello che in realtà è, persuadendosi meritare più che non meritano. E il contrario si fa dell'ingiuria. Anche un piccolo torto viene ingigantito. Quindi l'uomo spesso è ingrato. Mentre la gratitudine rende lieti gli uomini, come ci dice Calvino nella giornata di uno scottatore. Quando Calvino vede una persona che è meno mata lì al cotolengo e parla con una scottatrice, ecco nel dialogo tra le due persone emerge tutto l'orgoglio di questa persona meno mata per le proprie capacità ed emerge il debito di gratitudine. Questa persona dice io so fare tutti i lavori da me, sono le suore che mi hanno insegnato. Qui al cotolengo facciamo tutti i lavori da noi, le officine tutto, siamo come una città, non ci manca niente, le suore non ci fanno mancare niente. E allora la scottatrice insiste, le vuole bene a queste suore e la persona risponde grazie alle suore sono riuscito ad imparare. Ecco che la letizia straordinaria del volto di questa persona che è lì al cotolengo scaturisce proprio dal debito di gratitudine che sente nei confronti delle suore. Bortolo è grato per tutto quanto ha ricevuto e vuole in un certo senso donare qualcosa al cugino. E la chiacchierata tra Bortolo e Renzo prosegue e Renzo aggiorna il cugino Bortolo di tutto quanto è accaduto a Milano. A questo punto però Bortolo deve anche rendere con partecipe Renzo del fatto che se lui si trasferirà nella Bergamasca deve accettare di essere chiamato Baggiano. E questa scena indubbiamente ha un sapore fortemente comico. Sai come ci chiamano in questo paese noi altri dello stato di Milano? Come ci chiamano? Risponde Renzo. Ci chiamano Baggiani. Non è mica un bel nome, dice Renzo. Tant'è che è nato nel Milanese e vuol vivere nel Bergamasco. Bisogna prenderselo in santa pace. Per questa gente dar del Baggiano ad un milanese è come dar dell'illustrissimo ad un cavaliere. Lo diranno mi immagino a chi se lo vorrà lasciar dire. Perché Renzo andrebbe anche su tutte le furie. Non vuole essere chiamato Baggiano. Baggiano è un termine che designa una varietà di fave da orto a semi molto grossi. Baggiano indicava una persona sempliciotta dallo scarso comprendonio, quindi di poca intelligenza. E allora Renzo rimane stupito perché si chiede come possa una persona che magari vada nella Bergamasca e che lavora tanto e che mostri anche operosità essere chiamato Baggiano soltanto perché è un milanese. Ma Bortolo lo rassicura del fatto che se si trasferirà lì Baggiano sarà il suo nome. Questa vena comica rimarrà anche alla fine del romanzo, nel capitolo trentottesimo, l'ultimo. Ecco che quando Renzo definitivamente andrà ad abitare in un paese lì nella Bergamasca, sentirà dire che la sua Lucia è proprio una bella Baggiana, ma in questo caso Renzo apprezzerà il termine proprio perché accompagnato dall'aggettivo bella Baggiana.